come terza opera da analizzare ho deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito cioè cercare di prendere un edificio importantissimo palazzo tè e vedere come si può proporre di un edificio così complesso una lettura organica unitaria quello che fece costruire il palazzo di san sebastiano sua madre è isabella d'este la più grande committente femminile del rinascimento italiano quindi aveva come dire di fronte a sé degli esempi straordinariamente attivi nel campo della del mecenatismo artistico evidentemente federico gonzaga si sentiva in dovere di non solo continuare la tradizione familiare che peraltro affondava più addietro nella famiglia dei gonzaga ma anche di competere con il padre e soprattutto con la madre il padre scompare nel 19 quando lui diventa marchese di mantova ma la madre continua a essere viva per tutta la sua vita quindi una presenza anche un po ingombrante per certi versi non solo ma sempre nella famiglia federico gonzaga aveva un altro modello illustre di committente lo zio il fratello di isabella d'este cioè alfonso primo d'este il duca di ferrara che è un committente d'eccezione a poche decine di chilometri da mantova c'era ferrara che era una corte alleata di mantova dove c'era appunto un committente straordinario che si rivolgeva ai più grandi artisti del momento quindi come dire le le sfide erano già delle sfide in famiglia poi nella sua vita federico gonzaga ebbe delle opportunità eccezionali nel 1510 quando aveva dieci anni come mio figlio mi fa un po impressione pensare a mio figlio a dieci anni nelle vesti di federico gonzaga federico gonzaga viene mandato in ostaggio a roma alla corte di giulio secondo e passa tre anni dal 1510 al 1513 come ostaggio ma non era in prigione anzi era un ostaggio dorato viveva a corte partecipava alle feste a modo di conoscere non solo giulio secondo agostino chigi ma a modo di conoscere bramante raffaello michelangelo di vedere dipingere la volta della sistina di vedere dipingere le stanze della segnatura la stanza degli odoro cioè di essere a roma in un momento straordinario in cui noi tutti vorremmo essere a roma credo in quel momento se potessimo avere una macchina del tempo ecco forse è una delle cose che prima digiterei sulla console metterei roma 1510 francamente e lui c'era e ci sa tre anni le fonti ricordano che era un fanciullo bellissimo di bellezza angelica di cui il papa si era quasi innamorato tra virgolette invaguito raffaello lo ritrae due volte addirittura negli anni in cui a roma e questa questa esperienza da dieci a tredici anni a roma la corte pontificia lo marchia per tutta la vita perché in qualche modo quando poi lui torna a mantova la prima cosa che vuole fare è portare a mantova e infatti porterà giulio romano a mantova portare a mantova qualcosa di quella meravigliosa stagione appunto rinascimentale che aveva avuto modo di incrociare negli anni romani non solo ma tra il 1516 e il 1517 quindi quando era un adolescente lui va per un anno alla corte di francia e vive per un anno accanto al re francesco primo altro straordinario committente partecipando quindi alla vita mondana alle cacce ai divertimenti alle avventure galanti che in qualche modo erano erano tipiche di questo grande sovrano e evidentemente anche questo gli apre la mente su un altro mondo quello appunto della francia e del nord del nord europa nel 19 appunto il padre muore il marchese francesco secondo lui diventa marchese di mantova per alcuni anni si occupa di anche attività belli che ottiene anche alcuni piccoli successi ma poi non è quella la sua strada e a partire poi dai primi anni venti decide di trasformare radicalmente il volto della città e per questo avendo un ambasciatore a roma come baldassar castiglione che era amicissimo di raffaello e amico anche degli allievi di raffaello riesce nei primi anni venti a convincere giulio romano una volta finita la stanza di costantino a lasciare roma per sempre e a trasferirsi definitivamente a mantova come il nuovo grande artista di corte oggi la nostra considerazione di giulio romano non è esattamente quella che si aveva in questo momento per noi giulio romano è un grande artista sicuramente un grandissimo architetto e anche un grande regista degli apparati decorativi ma non è che lo stimiamo poi così straordinariamente come pittore tutto sommato e alla morte di raffaello giulio romano invece è ritenuto in italia il nuovo raffaello sostanzialmente l'erede di raffaello il prescelto colui che raffaello aveva scelto come il suo allievo prediletto aveva dato in eredità a giulio romano e al penni la bottega i cartoni i disegni quindi in qualche modo giulio romano aveva con sé aveva sulle sue spalle l'eredità di raffaello sia morale che fisica lui quando arriva a manto si porta a mantova probabilmente centinaia di disegni di raffaello di progetti e quindi in qualche modo portare giulio romano a mantova voleva dire esercitare un gesto di mecenatismo fortissimo voleva dire portare il raffaellismo da roma in pianura padana non che non fosse mai arrivato l'abbiamo visto nella prima lezione c'erano già opere di raffaello ovviamente in pianura padana c'era la madonna sistina c'era la santa cecilia a bologna c'erano altre opere ma una cosa ben diversa era avere l'erede di raffaello come artista di corte dei gonzaga i gonzaga avevano avuto mantegna fino a 1506 ora dal 24 hanno di nuovo un astro della dell'arte dell'arte italiana e europea del momento nel 1524 appena arrivato a mantova le fonti ricordano vasari lo ricorda ma vasari era molto amico di giulio romano quindi quello che racconta vasari è molto affidabile in questo caso vasari racconta che appena arrivato a mantova nell'ottobre del 1524 il duca e anzi scusate il marchese non è ancora duca diventerà duca più tardi federico gonzaga e giulio romano fanno una cavalcata fuori della città di mantova vedono un luogo particolarmente adatto dove sorgevano le scuderie le famose scuderie dei gonzaga dove venivano allevati quei famosi puledri che venivano poi con regalati o commerciati in tutta europa e chiacchierando il duca e il suo artista decidono che in quel luogo in quella in quell'isola abbastanza poco abitata appena fuori mantova dovesse appunto sorgere un un edificio più più nobile chi oggi è stato tutti voi sarete certamente stati immagino più volte a palazzo tè ed è quindi importante anche fare una riflessione sulla collocazione topografica di palazzo tè oggi palazzo tè è a mantova è praticamente dentro mantova appena fuori mantova si fanno pochi passi in dieci minuti dal centro si arriva a palazzo tè accanto c'è lo stadio ricorderete c'è quella grande spianata e a destra c'è palazzo tè ma palazzo tè è inglobato nella nella nell'area urbanistica di mantova nel cinquecento non era così vedete questa questa è un'incisione di del 1575 che fa vedere il com'era mantova nel cinquecento mantova era una sorta di città una parte di venezia della pianura padana che sorgeva su una serie di isole in questo lago creato dal dal mincio e dagli affluenti del mincio ancora oggi ovviamente mantova è circondata dall'acqua per per alcune parti ma non completamente e come vedete accanto alle isole urbanizzate della città raggiungibili attraverso dei ponti c'era un'altra isola qui sulla sinistra è pochissimo abitata come vedete l'isola del teieto da cui appunto il toponimo palazzo del tè che viene dal dal nome di quest'isola sulla quale appunto sorgevano queste scuderie c'erano questi grandi prati dove i cavalli potevano correre liberamente c'erano queste scuderie di gonzaga e effetti vedete che il palazzo tè è qui quindi è come dire superare un canale superare un ponte arrivare in un'isola quindi poco abitata e lì si trovava palazzo tè cioè palazzo tè è una una residenza suburbana non è un palazzo è una villa non è il palazzo ducale e come tutti sapete sorge nel centro della città è una villa suburbana e questo è molto importante non solo per l'architettura ma anche per gli apparati decorativi perché nel cinquecento basta leggere serlio per per accorgersene era molto chiara la gerarchia tra palazzi cittadini e ville suburbane i palazzi cittadini erano il luogo del governo il luogo dei negozia il luogo degli affari pubblici e quindi anche gli apparati decorativi dovevano avere un certo livello di serietà e di importanza e di decoro diciamo le ville suburbane erano invece luoghi pensati per il riposo per l'ozium è un riposo ovviamente virtuoso e colto ma certamente per dare al principe anche dei momenti di svago e di relax e proprio per questo ovviamente palazzo tè sorge fuori città nell'isola del teieto e come vedrete negli apparati decorativi di palazzo tè giulio romano si permette una serie di cose anche di invenzioni particolarmente audaci come vedrete che non sarebbero mai state permesse in palazzo ducale e infatti se uno va a vedere in palazzo ducale l'appartamento di troia dipinto sempre da giulio romano sempre per federico gonzaga qualche anno più tardi vede che il registro le scelte iconografiche anche il registro stilistico è completamente diverso anche questo quindi bisogna in qualche modo averlo chiaro perché oggi appunto la situazione topografica è talmente cambiata che abbiamo perso l'idea che appunto palazzo tè sia una villa suburbana è un po' quello che bisogna fare quando si va a vedere la farnesina a roma anche la farnesina era una villa suburbana oggi è nel centro di roma quindi ovviamente è completamente cambiato l'effetto come vi dicevo una delle delle eccezionalità di questo luogo è quanto si è conservato del progetto originario si è conservato moltissimo ci sono decine di ambienti sia nel quadrilatero centrale del palazzo sono una ventina gli ambienti decorati con a freschi cinquecenteschi di giulio romano sia poi nel giardino segreto che è appunto questa seconda ala più nascosta del palazzo di cui poi parleremo dove ci sono altri 5 6 ambienti decorati quindi davvero si è conservato moltissimo e come capite per fare un percorso anche sintetico all'interno del palazzo avrei bisogno di molto più tempo e molte più immagini il mio corso comprendeva circa 300 slide e non era neanche del tutto completo io ho scelto una trentina di immagini e quindi ho scelto di parlarvi non di tutto il palazzo ma di mostrarvi una serie di punti caldi per così dire laddove questa mia lettura di palazzo te come autoritratto del principe trova ovviamente particolari conferme ma vi assicuro che il discorso si potrebbe estendere a tutto il palazzo non c'è neanche una sala in cui questo tipo di lettura viene in qualche modo messa in crisi secondo me è veramente una sorta di leitmotiv continuo che appare nel nel palazzo l'idea da parte del committente di riflettersi in questo gigantesco edificio e in questo straordinario complesso di decorazioni una cosa interessante e la dico subito perché poi forse rischerei di dimenticarmela la cosa che colpisce e forse uno dei motivi per cui non ci si è mai resi conto di quanto palazzo te riflette l'immagine del principe è il fatto che a palazzo te federico gonzaga non c'è mai non c'è mai è impressionante sono centinaia gli affreschi sono migliaia le figure sono infiniti i temi che vengono scelti sia profani sia sacri come vedrete sia allegorici ma in questo profluvio di immagini il principe non si fa mai vedere è invisibile ma è onnipresente e questa è la cosa sorprendente di palazzo te è presente non col suo volto non col suo ritratto ma con una serie di allusioni araldiche epigrafiche o allegoriche come vedremo che riportano tutta la decorazione continuamente su di lui quello che evita federico gonzaga è la banalità se vogliamo di farsi rappresentare e celebrare direttamente non ci sono le sue imprese non c'è una stanza con le imprese di federico gonzaga era troppo ovvio era troppo banale tutto sommato non è l'unico committente che sceglie di fare così ce ne sono altri lo zio alfonso primo destra ferrara fa la stessa identica cosa andrea doria genova fa la stessa identica cosa la celebrazione diventa ancora più sottile quando evidentemente si evita la banalità della celebrazione ostentata e quando in qualche modo la celebrazione invece diventa in qualche modo sotterranea da da cogliere diciamo farà fra le righe per così dire a una cosa che non vi ho detto nel ritratto meraviglioso di tiziano conservato al prado è un dipinto del 1529 federico gonzaga si mostra come un elegantone come vedete un dandy quasi è di un'eleganza straordinaria per le vesti che porta e gioielli che indossa l'acconciatura la barba e così via ma ha un dettaglio significativo il cagnolino accanto questo cagnolino maltese a cui su cui poggia la mano e che cerca di con la zampetta di attirare l'attenzione del padrone per me è un dettaglio significativo non è un dettaglio casuale questo del cagnolino accanto al al principe alcuni studiosi recentemente hanno letto questa presenza come un elemento legato al tema della fedeltà e della fedeltà coniugale perché perché si sapeva che nel 1529 federico gonzaga stava cercando moglie stava cercando cioè una una donna importante alla sua altezza da da sposare infatti l'anno dopo nel 1530 dopo lunghe trattative matrimoniali sposerà margherita del del monferrato una paleologa addirittura quindi un'erede della famiglia dominante di costantinopoli e quindi legandosi ad una delle famiglie più nobili d'italia ed europa in quel momento ma nel 29 era ancora uno scapolo e quindi chi ha studiato questo ritratto ha detto il cagnolino c'è perché si vuole far capire che lui è comunque un un uomo fedele quindi un uomo adatto a contrarre il matrimonio credo che sia una lettura completamente sbagliata a dire il vero per per due motivi in primo luogo perché in questo momento 1529 la fama di federico gonzaga era esattamente l'opposta se uno va a leggere le fonti storiche lui era considerato un donnaiolo non solo ma era considerato un uomo scandaloso come vedremo perché aveva una relazione ormai storica e annosa con una donna sposata di mantova una nobile donna mantovana che lui avrebbe voluto sposare ma che non poteva sposare perché non era la sua altezza evidentemente e perché era già sposata tra l'altro piccolo dettaglio ma superabile come vedremo e quindi sottolineare la fedeltà coniugale era davvero piuttosto scandaloso secondo me io credo un'altra cosa invece il l'impresa araldica più importante di federico gonzaga era il monte olimpo accompagnato dalla parola fides ed era un'impresa araldica che si trova continuamente centinaia di volte a palazzo te si può incontrare era la sua impresa araldica preferita insieme ad un'altra che vi mostrerò tra poco era un'impresa che voleva sottolineare il fatto che lui fosse dotato di fides ma la fides non era la fides privata la fedeltà coniugale era la fides pubblica era l'affidabilità pubblica quella che manca ai politici in genere per così dire e che mancava anche a lui tra l'altro perché lui non era un uomo molto affidabile in verità ma come dire faceva si faceva forza di questa virtù politica e infatti quando nel 1530 carlo quinto lo nominerà duca di mantova e lui contrarrà una alleanza definitiva a quel punto con cui aveva vinto la partita cioè con l'imperatore nella nello stemma dei gonzaga verrà inserito il monte olimpo e la parola fides quindi l'affidabilità pubblica la lealtà verso le persone con cui tutti a lei io penso che il cagnolino questo significasse fosse un'allusione politica al fatto che in questo ritratto il principe si mostra già dotato di questa virtù in qualche modo che a cui teneva moltissimo perché era la virtù politica fondamentale per un uomo che governava uno stato insignificante come era mantova mantova è un luogo culturalmente importantissimo una capitale del rinascimento ma politicamente era uno statiarello di nessun di nessun peso che poteva essere tranquillamente mangiato dalla chiesa o da venezia o dall'imperatore o dal re di francia e riesce a rimanere libero riesce a rimanere autonomo solo perché appunto federico gonzaga prima di lui suo padre e dopo di lui i suoi eredi riusciranno a barcamenarsi fra le grandi potenze e allearsi con le persone giuste per così dire allora cominciamo a fare questo rapido percorso all'interno di palazzo tè scegliendo una serie di punti in cui fermarci beh vorrei partire da una delle dei cicli decorativi meno guardati in assoluto più trascurati e su cui su cui c'è meno bibliografia di tutto il palazzo e cioè il la serie di metope scolpite che decorano il lato settentrionale del palazzo questo lato non è il lato da cui si entra si si entra qui sulla destra come ricorderete ma il lato settentrionale è il lato pubblico del palazzo perché quello che si rivolge verso mantua quindi chi arrivava dalla città chi superava il ponte per super per per accedere all'isola del teieto vedeva di fronte a sé il lato settentrionale del palazzo e infatti non a caso questo lato è l'unico lato su cui ci siano delle decorazioni scolpite scultore in origine vi mostro il disegno cinquecentesco questa è una straordinaria campagna di disegni che fu fatta da un artista mantovano che si chiama Ippolito Andreasi per conto di un grande antiquario Jacopo Strada che lavorava per 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 l'imperatore in questo momento siamo negli anni settanta del cinquecento viene fatta una sorta di campagna grafica totale del palazzo vengono disegnati tutti gli esterni tutti gli interni tutti gli affreschi tutte le stanze per fare una sorta davvero di riproduzione completa del palazzo come era nel 1570 quindi sono disegni di grandissima importanza perché ovviamente ci permettono anche di vedere le parti quelle poche parti che sono state alterate architettonicamente o decorativamente nei decenni successivi qui si vede una cosa importante su questo lato vedete al centro campeggiava lo stemma dei Gonzaga oggi non c'è più ma qui in questo punto c'era appunto un grande stemma scolpito che in qualche modo già dichiarava la gloria della famiglia dominante della città e poi nelle metope del fregio dorico che corre lungo tutta la facciata si trova un ciclo di decine e decine di sculture di tipo araldico che rappresentano le imprese cioè gli emblemi araldici di federico Gonzaga della madre isabella d'este del padre francesco e degli antenati una sorta di galleria araldica della famiglia che viene rappresentata in queste metope non le guarda mai nessuno a dire la verità perché ovviamente le persone che arrivano vanno e entrano e sono attratti ovviamente dalla decorazione interna ma in realtà dobbiamo tenere presente che l'araldica come sapete sicuramente che per noi è una scienza tutto sommato un po passata di moda per dire un eufemismo qualcuno è appassionato di araldica per carità io no ma comunque oggi non è che siano moltissimi gli adepti di questa disciplina nel 500 l'araldica era invece una una disciplina fondamentale negli stemmi e nelle imprese si riflettevano le ideologie delle grandi famiglie dei grandi personaggi del 500 quindi avere uno stemma di un certo tipo avere dei blasoni particolari nello stemma scegliere una propria impresa con un motto e un'immagine particolare voleva dire dare di se stessi un'immagine pubblica particolarmente importante quindi è davvero una branca diciamo una disciplina che ci può anche stare poco simpatica ma che è fondamentale per studiare l'arte del 500 se uno guarda non abbiamo il tempo ovviamente di guardare attentamente tutte queste metope araldi che ci vorrebbe davvero anche qui un'intera lezione la cosa interessante che già in questa scelta di emblemi si può notare come il principe il committente federico gonzaga ha scelto per rappresentare se stesso tutta una serie di emblemi alcuni pubblici appunto il monte olimpo col motto fides ad esempio altri invece assolutamente privati il più privato di tutti che è questo qui in basso a sinistra ora avremo modo poi di riparlarne è quello che il principe preferiva tra tutti i propri emblemi araldici oltre al monte olimpo col motto fides l'altro da lui preferito era questo era un ramarro come vedete circondato da un cartiglio su cui c'era scritto questo motto latino che si ritrova decine di volte all'interno del palazzo quod uic dest me torquet che tradotto vuol dire ciò che a lui manca a me tormenta che vuol dire l'araldica è sempre un po enigmatica ovviamente non bisogna capirla all'istante la belle come diceva giovio la bellezza delle imprese e quando il motto e l'immagine creano un cortocircuito stimolano l'osservatore che ci deve pensare un attimo deve rifletterci e poi capire qual è il significato vi leggo un brano di un trattato di araldica cinquecentesca che vi spiega chiaramente cosa significa dice ludovico domenichi alla data 1556 parlando proprio di questo di questa impresa araldica ha questo ramarro molte proprietà e fra l'altra ne ha una rarissima degna di meraviglia fra gli infiniti e mirabili effetti di natura e questa è che egli cioè il ramarro non va in amore come fa ciascun altro animale onde il signor federico duca di mantova trasse già una sua argutissima impresa che fu il ramarro col motto quod uic de est metorquet e ciò era l'amore della sua donna che lo tormentava del quale amore quell'animale era privo cioè mi spiego meglio cosa ci dice federico gonzaga con questa impresa araldica che lui sceglie che lui decide di eleggere come la propria impresa rappresentativa che lui è schiavo delle pene d'amore mentre il ramarro che lui invidia evidentemente ne è privo ne è immune il fuoco dell'amore non lo non lo contamina mentre lui ne è travolto e questa confessione che è una confessione privata come capite diventa ancora più privata per quello che vi dicevo prima nel momento in cui viene costruito e decorato palazzo te almeno la prima fase dei lavori federico gonzaga è scapolo ma quest'amante storica che si chiama isabella boschetti vedremo poi ne parleremo isabella boschetti era una nobildonna mantovana nipote di baldassar castiglione sposata con un altro gonzaga ma era da quando aveva dal 1516 da quando federico gonzaga aveva 16 anni che i due erano amanti e innamoratissimi avevano già addirittura generato un figlio come vedremo quindi era una storia che per federico gonzaga era una specie di passione e dolore continuo passione perché era la donna che l'aveva travolto dolore perché era evidente per lui come per tutti e questa donna non avrebbe mai potuto essere veramente sua sia perché era sposata a queste date ma anche dopo quando come vedremo diventerà vedova perché non aveva la nobiltà sociale sufficiente per diventare la moglie del marchese e poi duca di mantova e la cosa sorprendente come già vedete è che in questa impresa araldica federico gonzaga confessa pubblicamente di essere tormentato per questo è tormentato dalla passione amorosa una passione che lo corrode che lo brucia diversamente dal ramarro questo è un altro degli elementi che ora vorrei mettere in evidenza oggi in questo autoritratto che il committente fa di se stesso all'interno del palazzo una delle cose che sono sorprendenti è che non è un autoritratto fatto solo di elementi positivi non è un autoritratto non è un catalogo di virtù non è uno speculum principis dove vengono elencate le virtù del principe ci sono anche le debolezze del principe cioè federico gonzaga confessa qui e in altri punti come vedrete le proprie debolezze quasi per dare una sorta di autoritratto a tutto tondo di se stesso questo davvero confesso è un elemento di cui non ho trovato nessun parallelo tutti i grandi committenti di quest'epoca direi tutti i grandi committenti della storia più o meno hanno commissionato opere d'arte hanno pagato gli artisti perché gli artisti li celebrassero perché esaltassero i loro vizi scusate perché esaltassero le loro virtù e perché nascondessero i loro vizi invece palazzo te sembra che il committente abbia avuto l'idea davvero eccentrica e originalissima di rappresentare in questo palazzo un catalogo di pubbliche virtù e di vizi privati vizi privati e pubbliche virtù per ricordare il titolo di un film famoso degli anni settanta e anche questo è un altro degli elementi che rende così affascinante appunto la lo studio di questo luogo oltre alle metope che corrono lungo il fregio d'orico nella parte bassa fra le lesene che scandiscono la il lato settentrionale una di queste di queste lesene anzi scusate uno degli interstizi fra due lesene è decorato da delle sculture sono le uniche del palazzo ma fanno pensare che in origine giulio romano avesse immaginato di decorare almeno tutta la facciata con una serie di sculture come questa perché una sola ovviamente non dà non dà senso oggi questa unica scultura conservata unica realizzata molto probabilmente è di grande interesse perché anche qui noi troviamo un personaggio in cui come vedremo federico gonzaga si è in cui si è rispecchiato una sorta di emblema di exemplum a cui rifarsi cosa rappresenta questa immagine rappresenta un celeberrimo protagonista dell'antico testamento david il re david il quale come vedete ha appoggiato le armi per terra le ha appese a un palo qui si vede lo scudo la lancia la spada appoggiate appunto a questo a questo palo lui ha la corona in testa quindi già re di israele ma ha abbandonato le armi e sta dedicandosi ad un'altra attività tipica di david perché sapete che nell'antico testamento david è ritenuto l'autore dei salmi quindi è rappresentato come salmista lui sta cantando poetando e sta inventando ovviamente quelle meravigliose poesie che sono i salmi dell'antico testamento quindi può dire un grande uomo di guerra che ha abbandonato per un attimo le armi e che sta dedicandosi alla cultura abbandonato in negozia e sta dedicandosi all'ozium quello che era la funzione del palazzo in cui ci troviamo vedremo che david avrà anche altri motivi di essere scelto da federico gonzaga come una sorta di simbolo di se stesso ma ci arriviamo tra poco sempre in questo momento per farvi capire quanto queste assimilazioni siano forti dal punto di vista ideologico politico per il principe viene coniata per volere di federico gonzaga una medaglia come vedete questo è l'autore giambattista cavalli che era un orefice mantovano di grande qualità una medaglia nella quale come vedete sul recto si vede il volto del principe e sul verso si vede quasi la stessa immagine che abbiamo visto nella facciata di palazzo tè cioè david che sta suonando una specie di cetra di lira quindi david come salmista e che viene incoronato da una vittoria per le grandi vittorie che aveva ottenuto alla guida del suo popolo quindi di nuovo l'unione fra il principe e questo personaggio dell'antico testamento tra l'altro questa assimilazione probabilmente aveva anche un significato politico perché le fonti ricordano che quando era a roma il marchese di mantova aveva ordinato a un grandissimo orafo il caradosso una medaglia che fosse un david che ammazzasse golia quindi la scena della decapitazione di golia e così la si fa chiaro sarà da intender dice lo scrittore di questa lettera dai mantovani che vuol dire che il marchese ha arruinato il re di franza cioè l'immagine di david che decapita golia in questa medaglia del caradosso che non che non si è conservata voleva dire per i mantovani voleva alludere al fatto che il marchese di mantova aveva rovinato aveva come dire colpito aveva sconfitto addirittura il re di francia e in effetti nel 1522 federico gonzaga si era trovato al comandare le truppe pontifice aveva difeso pavia dagli attacchi del re di francia l'aveva sconfitto in un assedio che non era andato a buon fine quindi in qualche modo viene ricordata questa analogia fra davide che decapita golia con il marchese di mantova che idealmente come dire rovina il re di francia qui dove farvi capire come la scelta di queste immagini non è mai neutra non è mai casuale non è mai puramente decorativa o puramente letteraria ma si collega spesso all'attualità politica entriamo ora appunto all'interno del palazzo questi sono la piantina con quelli che sono gli ambienti che conservano ancora oggi decorazioni cinquecentesche il percorso che si fa ancora oggi come sapete è di percorrere prima di tutto il lato settentrionale se percorriamo il lato settentrionale saltiamo le prime stanze e arriviamo subito nella nella sala principale e incontriamo la sala dei cavalli fondamentale perché la sala più grande del palazzo e quella dove venivano allestite le grandi feste quando nel 1530 carlo quinto è ospite per un mese di federico gonzaga a mantova proprio qui in questa sala viene allestito un grande ballo con tutte le più belle dame di mantova per agliettare l'imperatore i suoi cortigiani quindi questa era sicuramente se non la più importante una delle sale più importanti del palazzo ecco in questo caso quello che colpisce appunto nella sala dei cavalli è il fatto che gli apparati decorativi la predominanza viene presa proprio da questi memorabili ritratti equini che costituiscono uno dei punti più alti della decorazione del palazzo talmente alto qualitativamente che si può immaginare che giudio romano qui abbia dipinto in prima persona non abbia delegato come sempre ai suoi aiutanti la realizzazione degli affreschi ma si è intervenuto lui stesso a dipingere questi stupendi cavalli che campeggiano davanti a delle vedute della campagna circostante come vedete tra l'altro questi cavalli sono talmente particolari che hanno il nome proprio come vedete ai loro piedi questo si chiama morel favorito ognuno di questi cavalli aveva un nome e un cognome per così dire erano come io quando parlo con i miei studenti dico avere questi cavalli era come avere uno status simbolo era come avere una ferrari praticamente erano gli animali più pregiati che c'erano in europa oltre a quelli arabi ovviamente che venivano importati dall'africa e quindi in qualche modo i gonzaga erano fierissimi di questi animali che vengono rappresentati con dei veri propri ritratti di cavalli sono ritratti non sono cavalli generici questi sono quei singoli campioni delle stalle gonzagesche perché vengono esaltati così questi cavalli in questa sala e beh per due motivi sia per ricordare le origini del palazzo cioè il fatto che prima che sorgesse il palazzo te in quel luogo c'era la stalla di gonzaga è stata ricostruita sulla base dei resti si trovava qui in questo lato proprio dove c'è la sala dei cavalli in questa zona verde era una un edificio molto semplice ma decorato però perché era comunque la stalla dei gonzaga e qui dentro c'erano appunto questi cavalli straordinari e poi ovviamente per un altro motivo perché in questi cavalli si celebra uno degli elementi di forza e di prestigio della famiglia gonzagesca i gonzaga erano famosi in tutta europa per la loro cultura per i loro artisti e per i loro cavalli non certamente per il loro esercito o per la loro forza economica o militare questi erano gli elementi che facevano sì che in qualche modo questa famiglia nobile di manto fosse celebre in tutta europa celebrare i cavalli vuol dire celebrare i gonzaga in qualche modo infatti non è l'unica perché a palazzo ducale ce n'era un'altra di sala dei cavalli si è andata a sabbioneta sarete stati probabilmente a sabbioneta nel palazzo ducale di sabbioneta c'è un'altra sala anche lì dedicata ai cavalli e ai cani i cani sono rappresentati come sapete nella stanza nella camera degli sposi di mantegna i famosi molossi mantovani che era un'altra delle glorie della famiglia però non voglio soffermarmi ora su questa sala farei invece un passo avanti e entrerei in quella che è la sala d'angolo il cameron grande come la chiamano le fonti cinquecentesche e cioè la camera di amore psiche che qui vi mostro in un'immagine un po bizzarra che ho trovato con un allestimento di un artista contemporaneo piuttosto divertente devo dire che ha fatto questo pavimento di vetro questo specchio riflettente in cui si riflette tutta la decorazione delle pareti della volta la camera del di amore psiche che è certamente la più decorata di tutto il palazzo è di grande interesse in questo discorso che stiamo facendo per numerosi motivi che fosse importante già nel cinquecento se lo dice di nuovo la relazione della visita di carlo quinto pensate che carlo quinto quando viene a mantova nel 1530 viene condotto ovviamente dal marchese federico gonzaga a visitare palazzo tè rimane ammirato dal palazzo al punto che poi se ne fa costruire uno simile a granada se uno va a vedere la lambra di granada trova dentro alla lambra nel cuore della lambra un palazzo che sembra palazzo tè per certi versi ispirato sicuramente a palazzo tè quindi carlo quinto rimane colpito moltissimo ma le fonti ricordano che carlo quinto rimane più di mezz'ora a guardare gli affreschi in questa sala che è un tempo molto lungo francamente e non solo ma in questa sala gli viene allestito il banchetto privato viene messo una tavola al centro e in questa sala l'imperatore può desinare con i suoi fidati e con chiaramente il marchese e pochi nobili mantovani quindi un luogo ovviamente importantissimo ora la sala di amore psiche come dice il titolo la parola stessa è decorata da un ricchissimo ciclo di affreschi dove è stata raccontata la favola apuleiana appunto di amore e psiche perché è stata scelta questa favola e perché è stata data questa grande importanza beh già raffaello come sapete l'aveva scelta l'aveva scelta l'aveva utilizzata per decorare la farnesina di agostino chigi la storia di amore psiche è la storia di un amore impossibile tra un dio e una mortale chi la letta si ricorderà le straordinarie invenzioni di apuleio ma il fondo è questo psiche è una regina bellissima di una bellezza meravigliosa ma è una mortale cupido amore è il figlio di venere che non dovrebbe innamorarsi di una mortale invece se ne innamora e dopo una serie di prove di avventure infinite psiche alla fine dopo essere quasi morta più volte riesce a ottenere quello che voleva sposa cupido e viene trasformata in una divinità questo è il motivo per cui la favola di amore psiche è stata spesso usata già nella farnesina di agostino chigi per mano di raffaello per alludere ad amori tra personaggi di rango sociale diverso agostino chigi si era innamorato di una donna bellissima veneziana ma una donna del popolo l'aveva portata con sé a roma ha generato quattro figli e poi alla fine l'aveva sposata il papa stesso leone decimo aveva celebrato le nozze nel 1519 la scelta del mito di amore psiche era sicuramente fatta ad hoc per raccontare nel mito la storia di un uomo un dio che sposa una mortale e la scelta della favola di amore psiche a palazzo te è stata sicuramente voluta dal committente per alludere alla propria storia privata viene decorata fra il 26 e il 28 questa stanza quando ancora appunto federico gonzaga è scapolo quando ancora innamoratissimo di isabella boschetti quando è convinto che deve fare di tutto per riuscire a trovare il modo di sposare questa donna cosa complicatissima come vi dicevo la scelta di questo mito è sicuramente pensata per raccontare questa vicenda trasfigurata nel mito ovviamente proiettandola nel mito classico e quindi nobilizzandola dei riferimenti diretti ci sono nella stanza di amore psiche e proprio nei punti più importanti se guardiamo le pareti dove sono raffigurate su due grandi pareti il banchetto nuziale di amore psiche quindi la conclusione trionfale di questa storia in un punto proprio sopra alla tavola che viene preparata si trova in questo punto come vedete qui questo dettaglio interessantissimo c'è un pergolato bellissimo ci sono degli amorini con delle fiaccole e cosa stanno facendo questi amorini stanno tentando di tormentare col fuoco un ramarro e poi tengono in mano una scritta e su questa scritta c'è scritto quad uic de est met orquet cioè l'impresa araldica del committente che viene rappresentata davvero decine di volte nel palazzo sui caminetti nei soffitti nei pavimenti dappertutto qui viene messa in scena viene trasformata in una scena drammatica questi amorini stanno cercando di bruciare il ramarro ovviamente è un fuoco simbolico sono le fiamme di cupido sono le fiamme dell'amore lui è insensibile anche se viene preso per la coda non è molto felice e il committente come vedete di nuovo pubblicamente confessa di essere diversamente dal ramarro tormentato dalle fiamme di amore è abbastanza sorprendente questo questa questa trasformazione di un emblema araldico e all'interno di una scena mitologica come vedete ma c'è un altro punto della stanza ancora più sorprendente se vogliamo a qui c'è anche il disegno preparatorio di giulio romano come vedete in cui si vede che tutto era stato perfettamente messo a punto prima della 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 decorazione prima di mostrarvi l'altro punto della sala voglio anche dirvi un'altra cosa l'emblema scusate l'impresa del ramarro non è l'unica confessione privata che il committente fa in questa sala attraverso la raldica ce n'è un'altra un'altra delle imprese che federico gonzaga si fa realizzare per rappresentare se stesso attraverso la raldica è la cosiddetta impresa del boschetto che è questa sulla sinistra qui sulla destra questa qui siamo nella camera degli imperatori che un'altra sala che di cui non parleremo oggi ve l'ho messa perché un bellissimo stucco di grandissima qualità bianco e oro l'impresa del boschetto già nel titolo stesso allude a isabella boschetti qui la confessione è quasi diretta cosa rappresentava rappresentava un amorino che ha accanto a sé due alberi uno fiorente e uno secco l'albero della vita e l'albero della morte e ovviamente l'albero della vita è il boschetto a cui il committente dovrebbe in qualche modo giungere nella sua esistenza nel nome stesso c'è in qualche modo rappresentata l'emblema di questa donna amata amatissima da federico gonzaga non vi ho detto purtroppo non abbiamo neanche un ritratto di isabella boschetti è una cosa che mi dispiace moltissimo perché mi sarebbe piaciuto in qualche modo farvi vedere anche il volto di questa donna che ha così travolto il marchese poi duca di manto e anche qui abbiamo una fonte noi sappiamo che nel 1516 quando appunto federico aveva 16 anni ma quando era già scoppiata questa questo amore per isabella boschetti si fa realizzare questa impresa dal suo umanista pari de ceresara e lo stesso umanista chiarisce dice in questa impresa dunque alludendo al nome della persona per chi è fatta cioè isabella boschetti vostra signoria vedrà una piccola boscaglia e dal canto vi si può entrare da un lato vi è l'arbor vite dall'altro l'arbor mortis ambi abbracciati dall'amore in dimostrazione che dallo amore della piccola boscaglia dipende la vita e la morte dell'amante quindi capite anche in questo caso un'impresa araldica che diventa una vera e propria confessione privata addirittura la confessione di qualcosa che sembrava inconfessabile l'amore per una donna sposata che mai avrebbe potuto diventare ovviamente la legittima consorte del marchese di mantova ma c'è come vi dicevo un altro punto ancora più scandaloso se vogliamo che riusciamo a decodificare abbastanza bene nella parete dove c'è il caminetto questo è il disegno sempre dell'andreasi dove ci sono appunto due grandi finestre accanto al caminetto sopra il caminetto c'è l'immagine di polifemo con acis e galatea accanto e sulla sinistra come vedete in questo punto c'è un affresco che rappresenta un amore di giove ma un amore molto particolare ve lo mostro molto particolare perché perché qui si sta raccontando ispirandosi a un brano della vita di alessandro magno di plutarco la il concepimento di alessandro magno cosa racconta plutarco plutarco racconta che la madre di alessandro magno olimpiade avrebbe avuto in sogno la visione di giove che sotto la forma di un serpente si sarebbe unita con lui ingravidandola e quindi generando alessandro magno e quindi avrebbe avuto un'origine in parte umana e in parte divina non solo ma nella vita di plutarco si racconta anche che l'aquila di giove avrebbe dovuto in qualche modo occuparsi di tenere lontano di allontanare dalla stanza anunziale il legittimo marito di olimpiade filippo il macedone quello che per noi il padre di alessandro per permettere questo quest'unione tra appunto giove come serpente e olimpiade guardate come rappresenta la scena giulio romano olimpiade stesa sul letto giove alla parte superiore del corpo umana e la parte inferiore a forma di serpente dalla porta si affaccia federico scusate filippo il macedone l'aquila di giove gli infila un fulmine in un occhio accecandolo sapete federico aveva aveva perso un occhio in battaglia e quindi impedendogli di vedere questo tradimento divino che sta avvenendo sotto i suoi occhi non solo ma vi faccio vedere anche un altro dettaglio piuttosto sorprendente il fatto che come vedete giove è dotato di un membro maschile eretto in grande evidenza cosa scandalosa apparentemente talmente scandalosa che infatti nei disegni cinquecenteschi questo dettaglio viene censurato sparisce il membro eretto viene tolto perché viene ritenuto qualcosa di immorale non dimentichiamoci che siamo in una villa suburbana come vi dicevo cioè in un luogo dove certe cose anche certi divertimenti un po vogliamo anche un po volgari anche se ovviamente la fresca non è per nulla volgare potevano essere in qualche modo ritenuti accettabili diversamente dai palazzi urbani ma qui il problema è un altro i contemporanei dovevano rendersi conto chiaramente che in questa immagine dell'immagine cioè del re degli dei che sta unendosi con la sua amata alla faccia del marito per così dire era stata in qualche modo rappresentata di nuovo mitologicamente la storia di federico gonzaga e questa questa cosa che vi sto dicendo che potrebbe anche lasciarvi un po perplessi in realtà è assolutamente certa è confermata da due fatti in primo luogo il fatto che dal matrimonio dal legame fra federico gonzaga e isabella boschetti nel 1520 era nato un figlio maschio come vi dicevo come si chiamava questo figlio maschio alessandro quindi vedete che l'immagine è perfetta questo è il concepimento di alessandro magno e questo alessandro era stato chiaramente riconosciuto dal dal duca e in quel momento era il suo erede poi dopo verrà superato dagli eredi legittimi quando si sposerà con con la paleologa ma in questo momento era ancora il suo erede il figlio illegittimo della boschetti non solo ma se guardiamo il il punto in cui cade veramente l'affresco ci rendiamo conto che nella sala di amore psiche questa è una cosa che non vi ho detto c'è una lunga iscrizione latina che corre lungo tutte quattro le pareti dove viene esaltato il nome e i titoli del committente dove viene detto che il palazzo era fatto per l'ozio onesto del principe e per la quiete dell'animo ma vedete non è casuale che proprio in questo punto cada il nome di federicus cioè chi guarda questa scena è chiamato dal nome del figlio alessandro dal nome di federico gonzaga a identificare nei personaggi mitologici una sorta di trasposizione di vicende particolarmente scandalose di cui chiaramente tutti amanti avranno al corrente come ovvio sono le cose che sanno sempre tutti come sapete forse il marito no il marito lo sapeva dire il vero come ora tra poco vi racconterò ma che in qualche modo erano notizia molto scottante perché ne andava evidentemente della prosecuzione della famiglia gonzaga delle alleanze internazionali e quindi anche della ideale sopravvivenza di di mantola continuiamo questo giro abbiamo dato uno sguardo alla sala dei cavalli e alla sala di psiche ora entriamo nel lato orientale e soffermiamoci sulla grande loggia la loggia di david affacciata sul giardino e sulle pescherie questo è un altro dei punti più importanti più decorati più significativi del palazzo nella loggia di david come dice il nome stesso protagonista diventa di nuovo il re david quindi non storie mitologiche come nella gran parte della decorazione del palazzo ma invece una storia biblica ispirata al libro di samuele ma anche in questo caso la cosa interessante è che mentre le storie di david quelle più famose cioè david che decapita golia o david che combatte contro l'orso e leone vengono confinate nelle lunette nella volta nella grande volta che copre questa questa grande loggia ci sono tre episodi che raccontano l'amore di david per bezzabea e anche questa è una scelta iconografica non neutra ma molto probabilmente voluta esplicitamente dal principe di nuovo per riflettere sulle vicende di cui stiamo parlando sapete com'è la storia di davide bezzabea davide che è già re di israele vede si affaccia al balcone getta uno sguardo nel palazzo accanto nel palazzo accanto c'è bezzabea che sta facendo il bagno la toilette nuda ne rimane talmente colpito talmente folgorato che decide che quella donna deve diventare sua moglie il problema che bezzabea era sposata e allora david mette in atto una strategia davvero luciferina devo dire per liberarsi del marito e per sposare bezzabea che poi diventa sua moglie e la regina di israele ora guardate cosa dipinge giulio romano in questa loggia prima di tutto la toilette di bezzabea quindi questa fanciulla bellissima che viene come dire lavata e truccata e abbellita dalle ancelle poi al centro la visione di david che sta dall'alto osservando appunto la nudità così travolgente di bezzabea e poi nell'ultimo episodio il più sorprendente di tutti il momento in cui david si sbarazza del marito come racconta il libro di samuele come fa david a sbarazzarsi del marito il marito era questo uria unitita che combatteva da mercenario nell'esercito di israele lo prende lo invita a banchetto lo fa ubriacare per farsene beffe e poi lo manda in battaglia mandandolo in prima linea di modo che lui venga falciato dai nemici e infatti uria muore ma è quasi un omicidio come capite insomma siamo molto vicini ad un omicidio e infatti poi lui riesce a compiere il suo sogno d'amore bezzabea diventa sua moglie e regina di israele ma dio lo punisce e gli fa morire il primo genito in questa storia è chiarissimo di nuovo il tentativo da parte del committente di alludere a questa storia che stava avvenendo fra lui e isabella boschetti cos'era successo era successo che nel 1528 il marito questo francesco calvisano gonzaga stufo probabilmente di da ormai dieci anni anzi dodici anni accettare così col sorriso sulle labbra i tradimenti della moglie decide insieme ad altri nobili mantovani di fare una congiura per uccidere isabella boschetti in realtà probabilmente non era solo un motivo coniugale era un motivo politico a manto si temeva che federico gonzaga sposasse isabella boschetti prima o poi e quindi questo sarebbe stato un disastro per la politica matrimoniale dei gonzaga della città viene fatta questa congiura la congiura viene svelata francesco calvisano scappa in esilio a modena il duca di mantova il marchese anzi di mantova manda i sicari che lo uccidono a a modena e quindi finalmente isabella boschetti diventa vedova però come capite diventa vedova in un procedimento molto discutibile che ha delle somiglianze con la storia che stiamo vedendo il signore di mantova si innamora profondamente di una donna sposata e poi riesce in qualche modo a fare eliminare il legittimo marito certamente federico gonzaga non è colpevole come david perché in questo caso il povero uria non aveva fatto nulla di male mentre il marito dell'isabella boschetti aveva in qualche modo congiurato contro la vita della moglie quindi c'era una una legittimità in qualche modo nel mandare i sicari per ucciderlo però voi capite che nuovamente in queste scelte iconografiche è come se il committente si confessasse di fronte a coloro che potevano andare a palazzo palazzo te a visitare il palazzo a guardare gli affreschi come dire osservando trasposto nel mito o trasposto in una scena sacra come questo degli avvenimenti di cui tutti erano al corrente come vi dicevo a mantova ma che erano particolarmente delicati e anche scandalosi tutto sommato la sala dei giganti è troppo nota per per parlarne vorrei dire solo una cosa che anche la sala dei giganti che nell'altro angolo rispetto alla camera di amore psiche sono i due cameroni grandi sui due angoli del palazzo è un'opera in cui ovviamente è difficile anche riflettere sul significato ideologico della scena ma non c'è dubbio che in questa caduta dei giganti come nelle altre cadute dei giganti che vengono affrescate o realizzate in quest'epoca come quella per andrea doria a genova o come quelle per carlo quinto a madrid veniva rappresentata un'immagine in cui si voleva esaltare la capacità del 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 dio più grande cioè di giove di fulminare i giganti e di riportare l'ordine sulla terra cioè la scelta iconografica della camera appunto dei giganti che a noi ci affascina per mille altre ragioni ovviamente fu fatta di nuovo per sottolineare in qualche modo l'analogia fra il committente e giove il committente è giove il committente in qualche modo è colui che garantisce che sulla terra l'ordine regni sovrano e che il caos non prende il sopravvento per questo a mantova federico gonzaga a genova andrea doria a madrid carlo quinto scelgono la caduta dei giganti come una mito assolutamente politico in cui riflettere la loro capacità di grandi regnanti di mantenere l'ordine e di sconfiggere i mostruosi nemici chiaramente per carlo quinto i mostruosi nemici erano i protestanti o erano gli infedeli per il duca di mantova era molto meno ovviamente però questo concetto è sempre presente e in tutte le sale come vi dicevo del palazzo continua ossessivamente a come dire riflettersi in una serie di schermi e di specchi sempre variati l'immagine del committente concludo con l'ultima parte della decorazione del palazzo quella che si trova non nel quadrilatero che abbiamo fino ad oggi percorso fino ad ora percorso ma invece qui in questo punto nel giardino segreto vi ricorderete sicuramente essendo stati a mantova che attraversando il giardino in fondo sulla sinistra c'è un altro piccolo palazzo nel palazzo c'è un ortus conclusus un piccolo giardino chiuso dalle mura con una serie di ambienti intorno che rappresenta una specie di rifugio per il principe mentre la parte il quadrilatero era ovviamente la parte pubblica di palazzo te dove venivano allestite le grandi feste i grandi i grandi balli le grandi cene che aglietavano la vita della corte mantovana e dove venivano ricevuti gli ospiti illustri come l'imperatore in questo luogo nel giardino segreto che vedete qui ingrandito c'era per il principe un punto di maggiore ozium di maggiore relax di maggiore solitudine qui era veramente un luogo dove ci si poteva appartare dai clamori continui della vita di corte e anche dagli impegni continui che questi grandi personaggi dovevano dovevano sostenere e proprio per questo trovo significativo e anche per certi versi sorprendente che se entriamo nelle stanze decorate del giardino segreto ci imbattiamo nel primo ambiente la camera di attiglio regolo dove invece pur essendo questo luogo un luogo privato del principe tutto è chiaramente funzionalizzato per esaltare il committente vi mostro la volta è una volta molto complessa come vedete si chiama camera di attiglio regolo ovviamente perché uno degli quattro affreschi angolari questo in basso a sinistra racconta la notissima vicenda di attiglio regolo vi ricordate il console romano che aveva come dire deciso di morire pur di non infrangere la parola data torna a cartagine e si fa uccidere in modo anche orribile e ne messo in una botte piena di chiodi e fatto rotolare dai cartaginesi perché era tornato a roma invece chiedere la pace va chiesto alla guerra contro cartagine però poi non rimane a roma torna indietro per per mantenere la parola data quindi un esempio di fides di lealtà assoluta in un altro angolo c'è orazio coclite il famoso eroe della repubblica romana che ha difeso roma sul ponte quindi un esempio di virtus assoluta in un altro degli episodi angolari c'è zaleuco questo mitico regnante di una città della sicilia non mi ricordo se reggio si forse reggio era il quale aveva fatto un codice di leggi e poi quando si era accorto che il figlio aveva infranto queste leggi lo aveva condannato a essere come dire accecato quindi senza rispettare il fatto che quella persona fosse suo figlio però con la grande giustizia di scegliere che un occhio fosse tolto al figlio e un occhio a se stesso quindi trovando una sorta di equilibrio fra la clemenza e la giustizia altro esempio notissimo dell'antica roma e l'ultimo era una scena in cui protagonista era alessandro magno per l'appunto di nuovo alessandro il quale avrebbe mostrato la sua clemenza un giorno in una campagna in india in una zona freddissima un soldato infreddolito si sarebbe seduto su una sedia accanto al fuoco non accorgendosi che quella sedia era il trono di alessandro magno è arrivato alessandro questo soldato sarebbe balzato in piedi terrorizzato ma alessandro in qualche modo lo avrebbe come dire assolutamente giustificato per questa per questo errore quindi con un gesto di clemenza quattro virtù la fides la virtus la clemenza e la giustizia che sono ovviamente virtù politiche del principe riflesse in esempi dell'antica roma e al centro nell'ottagono purtroppo molto rovinato oggi ma lo vediamo meglio dai disegni preparatori come vedete di giulio romano c'è una grande scena politica questa è la scena più politica l'allegoria più plateale celebrativa nei confronti della mantua di federico secondo è collocata non nelle zone pubbliche del palazzo ma nell'appartamento segreto anche questo è sorprendente a prima vista c'è quest'idea che tutto il palazzo deve modellarsi sull'immagine pubblica e privata del committente sia le parti più pubbliche sia le parti più private cosa raffigurato in questo tagono ora velocemente perché temo che sia tardi infatti è un allegoria in cui come vedete al centro c'è una figura femminile la città di mantova che sta ricevendo omaggi di ogni genere da figure alate che una niche che porta un ramo per alludere alla vittoria mercurio che allude alla prosperità economica altre figure che invece alludono alla ricchezza culturale della città ci sono dei libri c'è una tromba che allude alla fama e poi la cosa più interessante c'è una figura che sta entrando nella scena con una squadra in mano per alludere all'architettura che tiene in mano guardate qui è molto rovinato forse si vede meglio qui il monte olimpo cioè l'impresa di federico gonzaga quindi questa allegoria è la mantova di federico gonzaga che fiorisce da ogni punto di vista bellico economico culturale e che diventa in qualche modo una sorta di celebrazione del regno di federico gonzaga ecco questa è l'ultima immagine che ho che ho scelto mi sarebbe piaciuto quasi sovrapporle le due immagini ma diventava un pochice tutto sommato quindi ho preferito tenerle una accanto all'altra c'è l'idea davvero che questo palazzo come ho già detto tante volte e lo dico per l'ultima vi assicuro nasca con l'idea di creare qualcosa che che non si era mai visto fino ad oggi cioè un palazzo ad uso e ad immagine del principe una sorta di grande autoritratto ideologico ma anche spirituale di un uomo come federico gonzaga che nelle arti chiamava talmente le arti da scegliere in qualche modo di confessarsi attraverso le arti dimostrare anche le proprie debolezze dimostrare anche gli elementi di fragilità dimostrare anche quelle cose che altri committenti avrebbero taciuto o di cui non si sarebbe mai parlato pubblicamente che invece vengono pubblicamente raccontate in questo grande specchio del principe che è appunto palazzo te a mantova vi ringrazio a una cosa che non ho detto così lo dico per rompere il ghiaccio se qualcuno volesse fare qualche domanda o avesse anche qualche suggerimento anche qualche obiezione perché mi rendo conto che è un'interpretazione abbastanza diciamo marcata per così dire quello che mi ha favorito oltre al fatto che conosco bene il palazzo è il fatto che palazzo te è uno dei rari monumenti italiani su cui abbiamo una stupenda monografia opera di un professore di architettura di firenze che si chiama ammedeo belluzzi che ha scritto uno di quei volumi pubblicati dalla panini di modena i mirabili a italia quei volumi costosissimi inacquistabili sostanzialmente ma che ci sono nelle biblioteche noi ce l'abbiamo nella nostra biblioteca anche qui normale ci sono ovviamente il volume dedicato a palazzo te i due volumi anzi scritti da ammedeo belluzzi sono un un esempio straordinario di una monografia dedicata ad un grande monumento in cui ogni dettaglio dell'architettura della decorazione degli affreschi degli stucchi viene analizzato riprodotto commentato perfettamente ovviamente come dire è quello strumento che mi ha permesso poi di riflettere di pensare a quale fosse il significato d'insieme in qualche modo quello che ho fatto è stato solo trarre la morale di questo bellissimo volume che vi dicevo è stato pubblicato ormai vent'anni fa nel 1998 se non ricordo male ma che ancora oggi assolutamente insuperato per chiunque voglia avvicinarsi al palazzo e alle sue decorazioni poi ci sarebbe molto a dire anche sull'architettura ma come vi dicevo non sono sufficientemente ferrato in questo campo per per permettermi interpretazioni potrei fare solo delle descrizioni sono inutili a questo punto sono altre cose sorprendenti vi ricordate i famosi famosi triglifi che scivolano questa idea di un'architettura che sembra che sia lì per crollare sono una serie di invenzioni eccentriche una dopo l'altra palazzo te davvero la domanda è questa cioè se esiste nella interpretazione diciamo chiaramente tutta particolare interessante su palazzo te punto sul diciamo sul riflesso è un po a specchio di questo grande mecenate un metodo di approccio e quanto c'è diciamo in questa ricerca e se c'è se esiste un aspetto creativo dunque il metodo che io ho seguito per poi parliamo anche dell'aspetto creativo il metodo che ho seguito è stato un metodo abbastanza particolare perché ovviamente in questo caso non si è conservato il programma iconografico del palazzo non sappiamo neanche chi sia stato l'umanista o gli umanisti che hanno affiancato Federico Gonzaga nella scelta degli infiniti miti delle infinite storie che decorano il palazzo sicuramente c'è stato un almeno un umanista o un gruppo di umanisti che hanno affiancato il principe su questo non c'è dubbio purtroppo i documenti non si sono conservati in questo caso e quindi noi dobbiamo partire dal palazzo dalle decorazioni e a ritroso ricostruire il progetto e l'idea che è stata nella mente del principe e nella mente di Giulio Romano e questo è un modo che dobbiamo usare spesso in questo periodo perché raramente in questo in questa fase cronologica della storia si sono conservati i progetti le lettere ci sono delle lettere fra Isabella d'Este ad esempio e i suoi artisti in cui Isabella d'Este c'è una lettera famosa al Perugino poveretto in cui Isabella d'Este dice allora caro Perugino devi farmi un quadro così 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 e poi questa figura la voglio così questa figura la voglio così questa figura la voglio così questa figura la voglio infatti il povero Perugino non fa un capolavoro perché in quel caso non c'era praticamente neanche un colpo di pennello che gli era lasciato libero in quell'occasione Giovanni Bellini come sapete si rifiuta di lavorare per Isabella d'Este perché lui diceva che voleva essere libero che voleva avere la libertà di muovere la fantasia come 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 l'ispirazione in qualche modo gli dettava in quel momento Isabella d'Este non permetteva questo ai suoi artisti ora non voglio esagerare io non credo che a Palazzo Tè fosse stato redatto un progetto iconografico per ogni minimo dettaglio della decorazione questo non lo credo credo anche che Giulio Romano avesse un margine di libertà piuttosto notevole quando doveva inventare gli apparati decorativi ad esempio una per tutti la sala dei giganti beh la sala dei giganti poteva essere decorata come a Palazzo Doria a Genova vi ricordate? a Palazzo Doria la sala più importante ha sulla volta un affresco un riquadro dove per Indelvaga rappresenta la Giove che fulmina i giganti Giulio Romano ha l'idea straordinaria di trasformare l'intera sala in una caduta dei giganti voi sapete che la sala dei giganti, la camera anzi dei giganti è una novità assoluta nella pittura, nella decorazione del Cinquecento perché è una sala decorata a 360 gradi tutte le pareti, tutta la volta ma in origine anche il pavimento sì, pensate che oggi il pavimento è un mosaico settecentesco molto bello, ma è un rifacimento in origine noi sappiamo che la sala dei giganti era decorata con dei ciottoli di fiume che non solo si distendevano sul pavimento ma risalivano per alcuni centimetri sulle pareti era come un terreno naturale che si collegava alle pareti e le pareti si collegavano alla volta era come essere in una bolla era come essere nella realtà virtuale come mette uno schermo come fanno i nostri figli oggi io non l'ho mai fatto ma me lo raccontano per così dire era una cosa simile per cui quando si chiudevano gli scuri quando le porte erano decorate anche le finestre e le porte uno era immerso a 360 gradi in una scena unica mitologica giove che fulmine giganti perfino il caminetto era collegato alla scena perché se uno guarda dove c'era il caminetto sopra si vedono delle fiamme che spuntano fra gli affreschi quindi era un'idea straordinaria che non c'entra nulla con la celebrazione del committente perché Giove veniva celebrato ugualmente quindi c'era ovviamente un margine di libertà molto forte Federico Gonzaga aveva scelto Giulio Romano non per avere un mero esecutore dei propri ordini ovviamente era per avere un genio capace di trasformare le sue idee in invenzioni geniali come infatti fa Giulio Romano quindi esiste questo margine di libertà fortissima come anche nell'architettura io ribadisco quella idea folle di mostrare un fregio dorico sapete che il dorico è l'architettura solida per eccellenza come dicevano i greci quella virile per eccellenza mentre lo ionico è più raffinato, più femminile mostrare un fregio dorico con i triglifi che slittano e che sembrano sul punto di cadere davanti ai nostri occhi è un'invenzione che dire eccentrica è dire poco perché evidentemente contraddice quella che è la solidità stessa dell'architettura l'architettura diventa quasi una rovina non è una rovina è qualcosa che sta per rovinare davanti ai nostri occhi un po' come la camera dei giganti dove noi vediamo una parte con le architetture che cadono queste sono chiaramente invenzioni straordinarie dell'artista che non hanno a che fare con quest'idea che vi ho raccontato oggi del committente di come dire proiettare la propria immagine non in modo banale non facendosi celebrare appunto con le proprie vittorie o con la propria pompa come nella camera degli sposi ad esempio dove sono i Gonzaga che vengono mostrati qui si mostrano altre cose ma una serie di altre cose che alludono continuamente alla persona del principe alle sue virtù pubbliche e anche come avete visto ai suoi vizi privati anche se vizio forse è una parola un po' troppo forte credo quindi è proprio questo che rende affascinante il palazzo cioè il fatto che ci sono incontrati un committente d'eccezione e un artista d'eccezione come Giulio Romano in effetti un regista d'eccezione come Giulio Romano grazie una piccola curiosità e un chiarimento la curiosità riguarda il fatto ma la tradizionale interpretazione del rettile dell'impresa eraldica con la salamandra è una variante che non cambia il significato è discussa l'interpretazione fra la salamandra e il ramarro non cambia di molto perché sono entrambi due animali e sangue freddo quindi il significato è lo stesso la salamandra era un simbolo francese il re di Francia le fonti cinquecentesche questa che vi ho letto parlano chiaramente del ramarro io mi sono attenuto alle fonti cinquecentesche anche se certi studiosi moderni preferiscono parlare di salamandra ma poco cambia il significato è quello cioè è un animale come dire che non è che ha sangue freddo che non va in calore come dicono le fonti che poi non è vero ovviamente perché altrimenti sarebbe un problema ed è chiaramente quindi un animale che allude per antitesi alle sofferenze d'amore del committente io penso che sia un ramarro ma ora non metterei la mano sul fuoco per usare questa metafora continuamente il chiarimento invece riguarda un aspetto che mi è sfuggito forse non ho capito bene c'è una ragione per cui le virtù più politiche di Federico sono relegate magari nel giardino segreto le scene più esplicitamente personali private sono invece nelle camere di maggior rappresentanza diciamo una ragione avviene il contrario di quello che ci si immagina io mi sarei aspettato che le immagini più politiche fossero nella sala dei cavalli nella sala di psiche nella loggia di David e che le confessioni più autobiografiche più scandalose fossero semmai nel giardino segreto avviene il contrario è una scelta del committente ovviamente è un modo per fondere nel palazzo questi due piani continuamente in realtà immagini politiche immagini private sono sparse ovunque io vi ho fatto vedere in qualche modo le più clamorose e le più clamorose effettivamente sono apparentemente fuori posto non sono nei luoghi dove ce li aspetteremmo ma anche questo probabilmente ha a che fare con questo desiderio che è un altro elemento tipico di Palazzo Tè è un altro elemento tipico del manierismo ovviamente perché si dice sempre che Palazzo Tè è uno delle regge del manierismo questa affermazione da manuale ma uno degli elementi tipici del manierismo è la sorpresa è l'inaspettato il triglifo che scivola la camera di giganti fatta in quel modo la camera di psiche anche con questa straordinaria ricchezza decorativa il fatto che ogni stanza di Palazzo Tè vi ricordate è decorata in modo completamente diversa da quella precedente e completamente diversa da quella successiva c'è un effetto sorpresa continuo probabilmente anche nell'invenzione iconografica si è voluto in qualche modo sorprendere gli spettatori tra l'altro non dimentichiamo chi erano gli spettatori non era il turismo internazionale di massa come oggi ovviamente non erano le nostre classi portate in gita scolastica a vedere Palazzo Tè o i bambini erano il principe i suoi ospiti illustri la corte basta quindi era un'elite molto colta molto addentro nella cronaca nella storia nella politica nella cultura dell'epoca che poteva nella raldica anche che poteva capire tutto e decodificare tutto con grande rapidità non come facciamo noi oggi che abbiamo bisogno di studi lunghi e anche faticosi per capire delle cose ovvie in quel momento quindi anche il pubblico in qualche modo era un pubblico molto particolare ovviamente non era rivolto a tutti questo discorso non era rivolto al popolo di Mantua il popolo di Mantua il 95% della gente forse di più non poteva entrare a Palazzo Tè ovviamente quindi c'era in qualche modo anche un'attenzione a che livello di pubblico poteva essere raggiunto da queste opere ovviamente un po' come le stanze vaticane oggi ci vanno 5 milioni di visitatori all'anno ma in passato erano pensate per poche centinaia all'anno probabilmente grazie bene allora se non ci sono altre domande io vi saluto vi faccio i miei auguri più sentiti per il vostro per la vostra missione che io condivido perché ho insegnato a lungo a scuola prima di approdare all'università quindi so bene cosa vuol dire avere davanti una classe di scatenati adolescenti però ricordo anche le grandi gioie che si possono provare insegnando storia dell'arte ai ragazzi di quell'età quindi un po' vi invidio anche devo dire e so che c'è anche oggi penso il caffè giù che vi aspetta quindi se volete approfittare approfittate arrivederci grazie grazie grazie